Ed ora, a Circo Massimo Show, una vera chicca della pista, una bizzarra variante dell'arte della giocoleria. Ai piatti, David Franconi! Grazie a tutti! Ma non fatevi ingannare, David arriva da una delle famiglie eccellenti del Circo Mondiale. Pensate che il suo trisavolo, Antonio, fu addirittura uno dei fondatori dei primi circhi parigini. E lui sembra proprio il degno erede di tanto genio e sregolatezza. Grazie a tutti! Il numero di David prevede una straordinaria abilità, anche se lui lo esegue con una vera leggera e ironica. Il suo unico pensiero è tenere costantemente sott'occhio i piatti sulle asticelle per assicurarsi che continuino a ruotare. Il numero di David prevede una straordinaria abilità, di Davide, una straordinaria abilità, Ops, per un piccolo incidente Ma non c'è tempo da perdere C'è da badare ai piatti Ma non c'è tempo da perdere Ancora piatti Ma è una vera fissazione Ma è una vera fissazione Sempre più difficile David è cresciuto fra i camerini del Lido, del Moulin Rouge E dei grandi locali paricini E' proprio lì che ha visto fare il classico numero dei piatti rotanti Che ha poi reinterpretato con una vera straordinaria E oggi lo ripropone con incredibile successo Negli stessi locali dove l'ho visto fare le prime volte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Che tensione! Basta guardare il viso di David Per capire quanta energia ci vuole Per servire questa performance Fotta al punto giusto Straordinario Straordinario Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bravissimo David Franconi Oh Franconi che ti snoglia Grazie a tutti.